In mezzo alle tante complessità sanitarie e ospedaliere da gestire in questo inizio di 2023, di transizione con la nascita della azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino, germogliano però anche progetti pilota, progetti davvero innovativi e confortanti per la comunità. Rientra in questo discorso il progetto Dama, che è stato presentato oggi all'ospedale Santa Croce di Fano, ma che riguarderà tutta la provincia di Pesaro e Urbino e che sarà un riferimento per la regione Marche insieme all'omologo di San Benedetto del Tronto, la direzione dell'azienda sanitaria territoriale e i medici di riferimento del progetto Dama hanno illustrato questo percorso che sarà rivolto all'accoglienza e assistenza medico-ospedaliera per le persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria con particolare interesse alla fascia dei minori, alla fascia dei bambini. Un progetto che avrà un suo step importante a partire dal lunedì 3 aprile quando verrà attivato un call center dedicato. Questi sono momenti in cui riesci a intravedere le possibilità che ha un percorso integrato nel favorire, nel consentire ai pazienti di non doversi fare da soli il percorso, cioè girare lemosinando appuntamenti al CUP, cercando medici, cercando infermieri, cercando risposte a delle problematiche che sono pesantissime, sono ragazzi che, o uomini anche, perché a 26 anni parlare di ragazzi già è eccessivo, che hanno un mare di problemi, che hanno problemi di gestione fortissimi, sono famiglie che sono a volte devastate da queste problematiche, quindi dargli un aiuto e consentirgli comunque di usufruire di servizi integrati che in un accesso risolvono più di un problema, secondo me è una cosa meravigliosa ed è veramente uno di quei giorni in cui ti commuovi perché veramente capisci che hai favorito qualcosa di utile. Questo progetto si rivolge a soggetti minori con grave disabilità intellettiva, neuromotoria e comunicativa relativamente a tutta la regione Marche, per quanto riguarda i minori, per quanto riguarda i maggiorenni, è relativa sempre alle persone con grave disabilità intellettiva, neuromotoria e comunicativa della provincia di Pesaro Urbino. Come accedere? Attraverso una telefonata che verrà effettuata o dal familiare della persona oppure dal caregiver a un numero fisso, che è un call center, però un numero comunque fisso, 0721 88 27 27, in tre giorni della settimana, lunedì, mercoledì, giovedì e in tale occasione risponderà un operatore sanitario. L'operatore sanitario raccoglierà i dati sia anagrafici del paziente e le caratteristiche della domanda, cioè la necessità che ha il paziente in quel momento. Oltre a raccogliere la motivazione della richiesta di visita, raccoglierà ovviamente, dall'altra parte, ripeto, c'è un operatore sanitario, anche magari caratteristiche più specifiche relative al paziente. Si cercherà di provvedere, di andare incontro alle famiglie, ai pazienti, nelle modalità di accesso del paziente alla visita. È un progetto pilota, soprattutto nella regione Marche, lo stiamo sviluppando, è un progetto che in qualche altra regione è già stato sviluppato e ha dato risultati fantastici, noi ci stiamo arrivando e ovviamente ogni progetto però ha la sua collocazione territoriale. Il progetto che funziona in una metropoli è diverso dal progetto che noi riusciamo a realizzare qua, viene customizzato a seconda dei bisogni della popolazione. E attenzione, noi andiamo ad ascoltare tantissimo i bisogni, perché sarebbe sbagliato fare un progetto copia, incolla, non tenendo presente di che cosa serve davvero. L'esperienza di anni di Sistemi di Qualità ci ha insegnato questo, cerca di capire cosa serve davvero, ascolta le persone, ascolta le mamme, ascolta i professionisti e poi costruisci. E noi cosa abbiamo fatto e oggi è l'apoteosi, siamo riusciti veramente a fare qualcosa, a renderlo concreto. È veramente importante dare dei percorsi personalizzati a queste persone che hanno dei gravi problemi, le loro famiglie, quindi benissimo diretti verso questa direzione e siamo convinti che anche con il nuovo piano social sanitario si riuscirà piano piano a dare una svolta a questa sanità che ha bisogno sicuramente di essere migliorata.